ormai di youtuber ne avete tanti ma vi siete mai chiesti uno youtuber sa cosa vuol dire youtube ed ecco qui il quiz con le 10 domande su youtube ta 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 taaan c'è proprio tipo da presentatori falliti allora ragazzi bello intanto e si cosa dovremmo fare in questo video andremo a fare delle domande su youtube se ne sappiamo su youtube ma non come è stato per chi si ricorda il quiz che abbiamo fatto un po' di tempo fa era sul mondo di youtube in questo caso è proprio tecnico su youtube in generale cioè per esempio quando è nato youtube queste cose qua quindi andiamo a vedere se ne sappiamo su youtube noi che ci lavoriamo dentro youtube certo ok si 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 youtube per professionisti infatti andiamo a vedere se sappiamo queste risposte esatto quanto ne sai su youtube? cos'è youtube? un sito porno un sito web per ascoltare musica e un sito web per rivedere video per vedere video un sito porno un sito porno si concordo quando è stato fondato? due minuti fa febbraio 2005 e maggio 2002 sono indeciso tra maggio e... 2002 e due minuti fa sai che il 2005 lo scludo si il 2005 no due minuti fa da chi è stato fondato? da mia nonna da frank zuxi no no ti giuro da chadarley da mia nonna veramente mia nonna in realtà ha studiato ingegneria informatica ah tua nonna era chadarley? eh ha studiato ingegneria informatica però qua dici la mia nonna quindi se clicco io è mia nonna ah clicco io vai ok grande nonna cos'è il copyright insieme di normativi sul diritto d'autore? quel merdino che non ti fa scaricare la musica leggermente un robo sui diritti d'autore? quella merda che non mi fa scaricare allora quel merdino che non mi fa mi sembra un po' troppo scontata quindi io metto un robo sul diritto d'autore robot un robo si è scordato la t dove è stato scensurato youtube? da qualche parte Francia? da qualche parte si dove è la sede principale di youtube? california roma 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 e basta roma roma e basta porca troia roma capo di mundi pure perchè c'è sta la sede legale di youtube roma a cosa serve youtube? a niente a riempire server di dati merdosi per guardare i video aiutare vite a rovinare vite a nulla quanto ne sai su youtube? sempre quella tanto tutto sappiamo tutto fino a quante stelle possono arrivare le votazioni dei video? ma che vuol dire? eh? hai mai pubblicato? una volta si vota vota si più che altro c'è le stelle non c'è stato hai mai pubblicato un video su youtube? si un casino una cifra si ma più che altro come determina? eh quanto ne sai youtube? hai pubblicato youtube? si una cifra ok allora ne sai tantissimo ultima domanda di che colore è il logo di youtube? bianche rosso grigio tipo il turchese imperforato il turchese imperportato nere rosso nere rosso rosso e basta vai risultato non sai nemmeno cosa youtube non so nemmeno cosa youtube ma gioco ancora dai facciamolo seriamente cos'è youtube? un sito web per vedere i video dai io per ascoltare musica quando è stato fondato? febbraio 2005 ah cab da chi è stato fondato? questa qua si recentemente non la so ma mi sembra che sia chad harley o fred zaxi cos'è il copyright? insieme di normative sul diritto d'autore wow dove è stato censurato youtube? iran, tunisia, turchia, thailandia, brasilia, birmania e cina in francia dove sta youtube? ma è più che altro di socchia la cina quindi la cina sta tra quelle e quindi sta un posto così così si fanno i quiz ah cab dove è la serie principale youtube? california ma è in su della palo alto a cosa serve? dove è alto questo palo? una cifra carcoletta è totalmente alto che forse supera quasi il mio a cosa serve youtube? a niente a riempire i server di dati merdosi per guardare i video ma ce l'ha con youtube stavo quante le sai su youtube? ma perchè voglio portare qua? ecco quante le sai su youtube? fino a quante stelle passano arrivare le votazioni di video? era 5 vero? era 5 a me è pubblicato un video su youtube? si un casino infatti ne sovrò tantissimo di che colore è il logo di youtube? bianco e rosso veramente furbo comunque vero youtube? grazie grazie che almeno qualcuno ci crede in noi ti meriti il link di youtube addirittura eh? davvero? dammi un po' bam si è visto nella match history come eravamo da piccoli e poi c'è cane lupo accanto a noi cane lupo cane lupo in frasi da non dire con insomma non mi guardi video di cane lupo vabbè dai abbiamo scoperto che comunque siamo dei grandissimi youtuber siamo veri youtuber per fortuna qualcuno che ci da dei veri youtuber ci sta sul serio un quiz merdoso ragazzi questo quiz fa cagare al cazzo diciamolo non so chi l'abbia fatto volevamo prenderlo un po' per il culo comunque si social app builder è un sito che come sapete che cazzo è? è un sito che fa quiz molto difficili e interessanti cioè per quanto è fallito sto sito io vorrei farvi vedere che l'immagine che dovrebbe stare qua non c'è cioè gli ha crashato l'immagine ma che? eh gli ha crashato l'immagine aaaa wow popular apps wow top apps wow bellissimo vabbè ragazzi questo video è giunto al termine abbiamo scoperto che c'è vita su marte si e che noi siamo dei veri youtuber quindi adesso è certificato non potete più scriverci che facciamo schifo ma perchè siamo dei veri youtuber perchè conosciamo youtube esatto sappiamo tutto di youtube soprattutto con la domanda un casino di video abbiamo pubblicato si capito perchè ragazzi questo video è giunto al termine noi ci becchiamo il prossimo martedì come sempre alle 12.30 che bello fare finta su rai gulp si su rai gulp saremo online ma se io conquisto rai gulp ma se io conquisto rai gulp faccio un gulp di stato comunque aspetta aspetta facciamo finire comunque ragazzi dai veramente è giunto al termine se vi è piaciuto lasciamo i like e noi ci becchiamo al prossimo video con quanto ne sai su youtube in italia o youtube in generale bella che bello fare finta di farsi selfie